Bene, eccoci tornati nuovamente insieme. È stato tempo non solo di grandi eventi culturali, come dicevamo nella puntata di ieri, ma anche di tanti eventi a carattere religioso, uno dei quali lo approfondiremo oggi in compagnia dei nostri primi ospiti. Infatti abbiamo in collegamento con noi Carmelo Aricò e Francesco Riganò, entrambi facenti parte del comitato San Vincenzo Ferreri per le festività di San Vincenzo Ferreri. Adesso spiegheremo perché sto utilizzando il plurale nella città, nel piccolo borgo di Messignardi in provincia di Reggio Calabria. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno a lei. Possiamo darci anche del tu se non vi dispiace. Vi ho anche appellati come ragazzi, spero che questa cosa possa farvi piacere. A me quando mi dicono ragazzo non mi dispiace perché purtroppo poi gli anni passano. Per cui ecco ci togliamo qualche anno da sopra le spalle. Bene, siamo insieme stamattina per parlare di questa importante manifestazione religiosa che ho organizzato. Dicevamo in relazione a San Vincenzo Ferreri, patrono della vostra città e utilizzavamo il plurale perché sappiamo tutti che San Vincenzo Ferreri lo si celebra ad aprile, però a Messignardi questa festa viene replicata anche ad agosto. Dunque, Carmelo, in qualità di responsabile dell'area storico-culturale del Comitato per San Vincenzo Ferreri, spiegaci come mai ecco questa doppia celebrazione. Sì, buongiorno di nuovo. Allora, noi celebriamo San Vincenzo Ferreri come giusto che sia il 5 aprile, però la vera festa l'abbiamo spostata il 12 agosto in commemorazione, in ricordo, diciamo così, dell'anniversario del ritrovamento della statua del nostro santo presso i ruderi dell'antico convento domenicano di Santa Maria della Palomba che è stato distrutto in seguito al terremoto del 5 febbraio del 1783 e quindi questa statua è stata rinvenuta completamente intatta il 12 agosto del 1784 e quindi il culto, diciamo così, è appunto subentrato a quello di San Nicola di Mira quasi per un evento, diciamo così, quasi appunto sequenziale. Molto bene, ecco, le cose non avvengono mai per caso per cui in occasione di questo ritrovamento poi si è continuata a celebrare questa festa anche in agosto. Vedevamo qualche immagine, ci sono vari momenti che caratterizzano la celebrazione di questo ritrovamento. Presidente, Presidente Riganò, c'è sempre una grande partecipazione di pubblico quando appunto si rievocano questi momenti di grande fede, vero? Sì, soprattutto quest'anno in ricorrenza al 240esimo anno del ritrovamento alla statua, quindi abbiamo fatto alcuni momenti molto importanti a partire dal 4 agosto con, come si vede dalle immagini, c'è stata l'imposizione della nuova aureola sulla testa di San Vincenzo, un'aureola che è stata ricavata dall'oro donato negli anni dai vari fedeli, che è un intreccio, diciamo, di oro che va a, diciamo, a rievocare l'abbraccio dei fedeli proprio verso il santo. Per poi risalire l'8 agosto, siamo ritornati il 6 agosto al convento, quindi presso i rudi del convento e poi la festa finale che è stata il 12 agosto. Abbiamo stimato quasi oltre mille persone provenienti da varie parti sia d'Italia, ma anche e soprattutto quest'anno abbiamo avuto un grande rientro da parte di gente che sta in Australia, quindi devoti, quindi i nostri compaesani ritornati nella propria natia terra. Ecco, questi momenti davvero diventano una preziosa occasione per ritrovarsi con tante persone, non solo del luogo, ma come dicevi tu, anche dei tanti emigranti che in agosto fanno ritorno a casa per passare un po' di tempo con i propri familiari. Carmelo, che cosa vi portate a casa? Qual è il ricordo più bello della celebrazione di quest'anno? Allora, secondo me il momento più bello e più emozionante, maggiormente suggestivo, chiamiamolo così, è stato quello del 6 agosto. Come appunto diceva Francesco, è stato un giorno di grande grazia per il nostro paese poiché siamo ritornati con la sacra effigie presso i ruderi dell'antico convento. Quindi questo, secondo me, è stato un messaggio culturale molto forte, poiché, come dico spesso, soprattutto agli altri componenti del nostro comitato, un patrimonio legittima la propria storia. La storia genera consapevolezza e dalla consapevolezza è possibile dare vita a ciò che più ci appartiene. Quindi questo è stato un momento di grande grazia ed sarà un momento che ancora, almeno io personalmente, mi porterò dietro per tantissimo tempo, anche perché ora questo bellissimo rito non veniva fatto da tanti anni. Quindi quest'anno è stato il, direi così, momento adatto, il momento più opportuno per rifarlo. Ed è molto bello quando soprattutto giovani come voi raccolgono il testimone delle tradizioni, di questi riti religiosi che sono così sentiti e partecipati, come abbiamo visto. Presidente, quindi non ci fermiamo qui, abbiamo davanti ancora tante altre edizioni. Ci sono altri giovani che avete coinvolto in queste iniziative? Eh sì, quest'anno il comitato, io dal 1998 avevo 17 anni quando ho iniziato a intraprendere questa strada, diciamo, di portare avanti la storia, quindi la festa in uno di San Vincenzo Ferreri, perché l'obiettivo nostro è quello di fare coinvolgere, diciamo, storia, cultura e tradizione. Sono tre pilastri fondamentali ai fini dei festeggiamenti. Soprattutto quest'anno siamo oltre 17 ragazzi, abbiamo coinvolto anche donne. quindi insieme al comitato, ma soprattutto abbiamo coinvolto l'intero paese nelle varie maestrazioni civili e religiosi che ci sono state, perché l'obiettivo nostro è questo, quello di coinvolgere un paese, perché la storia, se noi andiamo a radicare la nostra cultura, dobbiamo riflettere su un fatto che San Vincenzo Ferreri è stato ritrovato in terra presso i rudi del convento a seguito del terremoto. Quindi è una grazia per il nostro paese, quindi il nostro obiettivo è quello di portare avanti anche le future generazioni, i festeggiamenti, non è il nostro grande santo. Bene, grazie, grazie al Presidente Francesco Riganoi, al responsabile per l'area storico-culturale, Carmelo Aricò per questa bellissima testimonianza. Dunque l'appuntamento è per il prossimo agosto a Messignardi in provincia di Reggio Calabria per partecipare tutti quanti insieme a questa manifestazione in una regione così bella e suggestiva come appunto è la Calabria. Grazie, buon lavoro a voi e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, grazie mille a te e a voi. Grazie mille. Arrivederci a presto, dunque io invece in questo momento restituisco la linea alla regia per una nuova pausa pubblicitaria. Ci ritroveremo con un nuovo servizio a cura di Paola Russo che come già fatto ieri ci proporrà appunto un'altra nuova interessante storia di innovazione sociale e culturale. Fra pochissimo.